Ben trovati a tutti, sono Pasquale Entini, vicepresidente di Fincop Lombardia, l'associazione che si occupa e sostiene le centinaia di migliaia di persone che in questa regione soffrono di incontinenza. Ne abbiamo parlato in diverse trasmissioni, abbiamo valutato tutti gli aspetti fisici di questo problema, oggi siamo qui per affrontare gli altri due aspetti che sono importantissimi nelle persone che soffrono di questo disturbo, il peso emotivo e il peso relazionale. Ne parliamo con la dottoressa Valeria Perego, psicologa e membro del consiglio direttivo dell'associazione. Dottoressa Perego, quando parliamo di incontinenza diciamo che oltre alle difficoltà fisiche c'è un grossissimo problema di tipo emozionale e psicologico, perché? Assolutamente sì, intanto è un problema molto individuale, questo è un problema di cui le persone fanno fatica a parlare e che tendono a tenere per sé, è un problema innanzitutto di perdita del controllo, quindi di non più possibilità di controllare le funzioni del proprio corpo che ricordiamoci sono una delle prime che si acquisiscono da bambini con il controllo sfinterico. La perda di controllo viene associata appunto all'infanzia o all'età anziana o alla disabilità, quindi costituisce uno stigma sociale forte e importante. Questo porta a un grave disagio psicologico per le persone, produce un grave distress e può portare anche a problemi come la depressione. La persona che soffre di incontinenza tende spesso e volentieri ad avere un ritiro sociale, quindi a far fatica ad uscire, a rinunciare alle attività principali, quindi a stare chiuso in casa e la depressione entra in questo modo in un circolo vizioso in cui si autoalimenta, quindi poi è difficile distinguere quanto sia l'origine e la causa di questo problema. Le persone tendono appunto a non ricorrere né allo specialista dal punto di vista medico, quindi tendono a parlarne sempre più tardi possibile né tantomeno pensano che uno psicologo possa essere uno specialista a cui rivolgersi, ma rimane invece una parte importante. Mi pare però che uno dei grossi problemi legato alla condizione emotiva di chi soffre di questo disturbo sia la vergogna. Vergogna che se non sbaglio a volte succede, si manifesta addirittura all'interno della famiglia. Certamente. Il paziente che soffre di incontinenza, proprio come dicevo prima, fa talmente fatica ad accettare questo problema e a parlarne che spesso non ne parla neanche all'interno della propria coppia o comunque dell'ambito familiare. Questo può portare diversi problemi relazionali, quindi pensiamo alla relazione principale, quella di coppia, quindi l'incontinenza può portare per esempio a difficoltà legate nella vita di coppia, alle sessualità, quindi le persone arrivano a rinunciare alla sessualità per esempio perché provano vergogna o l'imbarazzo che possa succedere un incidente di percorso. Ma l'aspetto relazionale si estende a tutti gli ambiti di relazione della persona, quindi se partiamo prima dalla famiglia poi si estende anche a un discorso più ampio, sociale, quindi le persone si vergognano sul posto di lavoro, a volte appunto smettono di andare a lavorare o accusano un forte stress rispetto a tutto quello che può essere la gestione del problema, quindi fanno una mappatura del territorio dove possono trovare i bagni, come possono attrezzarsi, quindi tentano di gestire questo problema ma portandosi addosso questa grande fatica di gestione. E la chiusura a livello, se è familiare, poi sociale, può essere non solo sul posto di lavoro ma per esempio rinunciare alle attività che piacciono, agli hobby, all'attività sportiva che può essere un momento in cui il problema si manifesta ancora di più e porta sempre a un maggiore ritiro delle persone. Una difficoltà quindi che diventa addirittura angoscia e che si aggiunge al problema fisico e abbiamo detto naturalmente alla difficoltà di relazione con gli altri. Una difficoltà ingiusta perché l'incontinenza, lo diciamo e lo ripetiamo, si cura, al di là del fatto che non è motivo di vergogna perché in molti casi è quasi addirittura fisiologica. Si cura solo che lo si sappia e per saperlo è bene che ci si informi. Finco per Lombardia è a disposizione per sostenere, informare, aiutare non solo chi ne soffre ma anche chi vive con le persone che ne soffrono.